Bentornati, bentornati sul canale, bentornati. Ci sono diverse notizie oggi, intanto vedo qualche valore un po' sballato, e infatti, e infatti, e infatti, torniamo. Allora, dicevo, ci sono diverse notizie oggi. Partiamo da quella più importante, diciamo così. È arrivata la comunicazione, intanto è saltato, perché ieri ce l'avamo lasciati con l'ormai imminente, almeno così sembrava, il passaggio di Stefano Senzi alla corte di Enzo Maresca, quindi non sempre tu Maresca, alla corte di Maresca, e invece poi è tutto saltato, per una questione non tanto di accordo tra l'Inter e l'Eister, né di visite mediche, come qualche bontempone ammaliziato, in realtà era un discorso tra l'Eister e i paletti del fair play finanziario inglesi, non sono riusciti a trovare un incastro adeguato, e quindi Senzi fa ritorno a Milano e resterà in nero-azzurro fino alla fine del contratto, quindi fino a fine stagione, e poi le strade si divideranno. Peccato, perché al di là dei 2-3 milioni, insomma, è l'Inter, dico proprio peccato anche per lui, però chissà, chissà, chissà se potrà tornare utile in questa stagione. Detto questo, c'è stata la comunicazione da parte dell'Inter, non solo al porto per Meditaremi, e quindi come atto formale la comunicazione alla squadra che ha ancora sotto contratto, anche se in scadenza, il giocatore dell'apertura delle negoziazioni, e quando c'è questo atto formale, di fatto, le negoziazioni non è che sono iniziate, sono quasi concluse, ma anche ha solo la firma, fondamentalmente. E non solo per Taremi, dicevo, ma è arrivata la comunicazione da parte dell'Inter anche al Napoli per Piotr Zielinski, tant'è vero che il Napoli starebbe pensando, e dovrebbe esserci l'ufficialità nelle prossime ore della lista UEFA, starebbe pensando appunto di lasciare fuori dalla lista UEFA, quindi fuori dalla Champions League, il centrocampista polacco, una sorta di ritorsione. Vabbè, siamo ancora a questi livelli del 2024. Ma è la settimana, sono i giorni che, va bene il futuro, ma sono i giorni che portano al derby d'Italia, che portano a Inter-Juventus, e come poteva mancare nei giorni precedenti all'Inter-Juventus, su un'intervista a Piero Ceccarini. Quelli di voi che hanno una certa età, come il sottoscritto, sanno sicuramente chi è Piero Ceccarini. Arbitro di Livorno, quindi compaesano di Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus, l'arbitro di quel famigerato celeberrimo, oseremo dire. Juventus-Inter aprile 1998 con la Juventus, che arrivava all'appuntamento a più uno sull'Inter. Match deciso dal gol nel primo tempo del Piero, l'Inter che giocava con Fresi perché Bergamo era stato inopinatamente ammonito, diffidato, contro l'Udinese saltò quindi il derby d'Italia. Bergamo era diventato leader di quell'Inter, tant'è vero che poi a fine stagione verrà convocato da Cesare Maldini per la spedizione azzurra a Francia 98. In assenza pesante, proprio Fresi non è irreprensibile su Del Piero. Gol 1-0 al secondo tempo, chiaramente. Dopo una partita con strafalcioni ovunque, tutti praticamente pendenti da un lato, a parte un paio, ma parliamo veramente di robe clamorose. C'è su YouTube, se volete, recuperatela. Ancora la mogliola di Pressing con Pistocchi e Raimondo Vianello. Arriva la ciliegina sulla torta, rigore strasolare di Giuliano su Ronaldo. Niente, si continua. Azione successiva, rigore per fallo di West su Del Piero. Poi, peraltro, sbagliato da Del Piero, parato da Pagliuca. Finisce 1-0, la Juve allunga più 4. La giornata successiva pareggiano entrambe. La Juve, non ricordo dove, l'Inter in casa col Piacenza. Piovono squalifiche, poi alcune revocate, alcune confermate per le dichiarazioni post partita. Moratti furibondo, Ronaldo furibondo, Simoni espulso, un macello praticamente. L'apice del potere politico juventino e dell'Inter che veniva presa come il club che spendeva ma perdeva. Un po' i ricchi scemi. Poi si è capito che non era esattamente così. Non è che servivano delle indagini, almeno a livello ufficioso. Si vedeva. Gente che dice, sì, ma comunque la Juve, quella partita arrivava col vantaggio di un punto e anche col pareggio, se segnava, se dava il rigore, segnava il rigore, comunque restava più uno. Sì, ma lì c'era arrivato già dopo una lunghissima sequela di nefandezze, ma lunghissima sequela di nefandezze in quella stagione. Cito tra le altre, il gol dell'Empoli a giornata precedente, non visto con la palla entrata di quasi due metri, Bianconi, colpo di essere di Bianconi con Peruzzi caduto dentro la porta, il gol di Birov tolto dentro la porta di quasi due metri, albito se non ricordo male, Cesari a Udine, Juve Udinese, e Juve Lazio con il rigore accordato alla Juve dopo un vantaggio concesso sbagliato, il gol davanti la porta, si torna indietro a calcio di rigore, e il Guardalini che toglie la palla al Daire che sta facendo la rimessa laterale, e praticamente la dà allo Juventino gol della Juve contro la Roce, tutta, sto andando a memoria, ma ce ne sono una serie infinita in quella stagione, e Ronaldo Giuliano, Juve-Inter, 1-0, è veramente la punta dell'iceberg, ma un iceberg lungo 800 miliardi di chilometri, e Giuliano Ronaldo è a un centimetro, per farvi capire, magari a chi non ha vissuto quegli anni lì, ecco, è immancabile, immancabile, l'intervista a Ceccarini, stavolta ci casca Repubblica, Ceccarini parte subito all'aggressivo, perché in questi anni non ha mai fatto un passo indietro, siamo all'assurdo, sono passati sei anni dall'episodio Piano e Cerafigna, e da allora Orsato non ha più arbitrato una partita fra Inter e Juventus. Ma come si fa? Si domanda Ceccarini, che ormai ha 70 anni, pensionato, ex consulente finanziario, chiaramente si conosce per essere anche un arbitro internazionale, tra le altre, e ha arbitrato anche partite molto importanti all'internazionale. Dice, io l'anno dopo, nonostante la bufera, arbitrae l'Inter in partita importante, evidentemente da questo punto di vista siamo addirittura tornati indietro. Orsato è il miglior direttore di cari italiano, uno dei migliori al mondo, possibile che non ci sia un modo per affidarli Inter e Juve? A me francamente, che arbitri Orsato, che arbitri Piripicchio, poco mi cambia, perché quest'anno, anzi, quest'anno, i più anziani hanno fatto più danni, quindi, non mi pare, non mi pare, proprio una roba, total, così, che tu metti Orsato, stai sui botti di ferro, ma anche no. Poi dice, le piace il VAR, aiuta a non sbagliare, però oggi viene usato male, beh, sì, come arbitrava lui invece. Dovrebbe spegnere le polemiche nei casi più gravi, ma l'obiettivo viene regolarmente mancato, non c'è uniformità di giudizio sugli episodi, con la scusa del protocollo, lo si usa, o non lo si usa, a seconda dei casi. Ci sono scelte, poi gli chiedono, ci sono scelte della sua carriera, per cui a posteriori avrebbe voluto poter consultare il VAR, poi sarebbe la VAR, perché il VAR è l'uomo, diciamo, dietro il monitor. Certo, non sono infallibile, magari ci fosse stato ai miei tempi, e meno male, se lo riconosce che non è infallibile, non era infallibile, adesso non lo so, magari arbitra all'oratorio. Episodi specifici non me ne vengono in mente, ma di certo, perché? Perché dovrebbero venire episodi specifici? Magari, il VAR mi avrebbe autato a evitare errori, come aiuta gli arbitri di oggi. Giuliano e Ronaldo, gli chiedono, l'ho già detto tante volte, è qua proprio, la gioconda di Ceccari, il difensore era fermo, e l'attaccante si muoveva. Ho un rimpianto, se avessi fischiato falli in attacco, l'azione non sarebbe ripartita, non ci sarebbero state tante polemiche, invece mi trovai in mezzo al vortice per mesi. Cioè, questo arbitrato, pagare internazionali, a distanza di trent'anni e più, quanti sono? ventisei, no trent'anni, che ventisei, eh sì, no trent'anni in più, meno di trent'anni, sono ventisei anni, praticamente, ancora, addirittura, non solo, ma rilancia, era fallo di Ronaldo, non era niente, era uno scontro di gioco, no, era fallo di Ronaldo, quindi proprio, cornuto e mazziato, vabbè, che ricordi avevi di quel periodo? Fu dura, per me e per la mia famiglia, io, i miei figli e mia moglie, subimmo insulti e disprezzo, senza ragione, col senno di poi, quell'episodio danneggiò, la mia carriera dopo il ritiro, col calcio al chiuso, del grande calcio, mi sono disamorato, ma non ho lasciato il mondo del pallone, per qualche tempo, con farina, ho contribuito alla gestione arbitraria, e la serie C, pensa un po', sarà un caso che gli arbitri di adesso, creati, non sono così, poi sono uscito dall'AIA, ho fatto il team manager del Livorno, ora, do una mano in serie D, al Cenaglia, tutti a Cenaglia, a Livorno è noto, è nato anche Allegri, lo conosce, ci siamo incontrati qualche volta, un uomo intelligente, col gusto della battuta, può piacere o non piacere, ma è la sua indole, solo Allegri fa le battute, in Italia, abbiamo capito, prossimo film conico, Cine Panettone, Allegri, e la sua indole quali? Cine Panettone, ci sarebbe proprio, che ne è? amo la giustizia, anche per questo, mi spiace vedere Orsato subire insulti, a personalità, quelle polemiche, forse lo hanno addirittura rafforzato, però è davvero arrivato il momento, di voltare pagina, bisogna creare un nuovo clima, nei confronti degli arbi, senza sospetti, senza paranoie, soliti, frasi fatte, per vista che ci saremmo francamente risparmiati, però stavolta il buon collega di Repubblica, vuole intervistare Ceccarini, peccato, peccato, io l'avrei, veramente, io l'avrei designato, per la partita di domenica sera, non so perché, secondo me, Ceccarini, ha quel qualcosa in più, che, peccato, peccato, un saluto. Grazie.